Bentornati! In questo brevissimo tutorial vi farò vedere come organizzare la barra di scorrimento. Questo perché quando cominciamo ad avere una serie infinita di tabelle, query, maschere, report, può essere molto facile perderci per andare a cercare uno degli oggetti. C'è un metodo semplicissimo, semplicemente clicchiamo sulla frecce giù dove dice tutti gli oggetti di access e selezioniamo la voce personalizzato. Ora in questo modo vedete lui stesso va a leggere un attimino quello che c'è scritto per cui organizza ordini, magazzino, poi non sapendo dove inserire questi altri li lascia come oggetti non assegnati. Questo vedete prodotti, prodotti filtrati si riferiscono tutto al magazzino. Se non abbiamo un gruppo lo creiamo noi semplicemente selezioniamo l'oggetto che vogliamo inserire in un gruppo, tasto destro, aggiungi al gruppo. Se il gruppo non c'è lo chiamiamo nuovo gruppo. Vedete qui si apre una nuova casella, gli scriviamo per esempio clienti e premiamo invio. Questo lo facciamo come aggiungiamo gruppo, nuovo gruppo, dipendenti. Possiamo lasciare tipo una maschera base, una maschera continua lasciando solamente negli oggetti o non assegnati oppure generalmente utilizzo il termine vari oppure tools, strumenti, quindi facciamo così aggiungiamo un gruppo, un nuovo gruppo, lo chiamiamo strumenti. Quando creiamo qualcosa di nuovo access ce lo assegni, ce lo assegni, ce lo inserisce in questo gruppo qui degli oggetti non assegnati. Quello che dobbiamo fare ci basta selezionare tasto destro, aggiungi al gruppo, per esempio questo va strumenti, ecco qui e lo troveremo. I gruppi possono essere raggruppati o espansi, semplicemente selezionando la freccia e vedete che ad un certo punto avrete una barra di scorrimento veramente organizzata e per voi sarà facile trovare tutto quello che riguarda ogni singolo gruppo, quindi saprete immediatamente dove andare a pescare l'oggetto che vi serve. Bene, da questo mini-vittoria è tutto, ci vediamo la prossima volta.